Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare un gioco che avevo addocchiato insieme a mia moglie da un po' di tempo, perché tutte e due siamo fan e appassionati della saga di Harry Potter. Si parla di Harry Potter, il gioco di miniature a cura della Night Models, che sono quelli famosi per il gioco, ad esempio, di miniature di Batman, ambientata a Gotham City che è di una cosa spettacolare e disumana, gioco portato in Italia e localizzato completamente in italiano dalla Cosmic Games, Cosmic Group, che io ovviamente ringrazio di cuore. Grazie per averci un affetto, una copia bella recensione, grazie Ettore. Per questa copia, appunto, dimostrativa questa copia recensione, grazie ed è un onore collaborare con voi. Insomma, questa collaborazione che poi va avanti ormai da un anno, quindi festeggiamo anche un anno insieme a voi ed è veramente un bel gioco. Poi al solito là il cosa ne penso e il voto ve lo do alla fine, però vi devo dire la verità, allora, a livello di regole è molto semplice. Ora proprio lo faccio vedere durante l'unboxing, quando uno apre il manuale si trova davanti a un manuale di 80 pagine e si sente male. Le miniature sono da montare, quindi non sono un pezzo unico, ma nel vecchio stile della GV, quindi sono tutte quante divise in pezzi da incollare e non sono grandissime come dimensione, potranno arrivare a 30 mm o una cosa del genere. Però sono fatte da paura, dettagliate e, secondo me, loro come giochi di miniature, a livello di dettaglio, la Night Models, sono i migliori. Ma non perché siano più bravi di altri. Prima di tutto, ovviamente, le pedine sono fatte in resina e quindi la resina, anche chi fa stampa in 3D lo sa, ti consente molto più dettagli e molto più raffinatezza. Una miniatura di plastica difficilmente arriva a livello di una di quelle di resina, un po' come vi abbiamo fatto vedere nel gioco di Alien, che poi comunque vi rimostrerò a breve con una partita. E si può raggiungere un livello di dettaglio disumano, tanto è vero che prendi una pedina, la guardi da vicino, te la giri e tutto, cioè Harry Potter e lui, Hermione e lei, cioè fanno paura come sono fatti. E questa qui è la cosa, appunto, che vi dicevo positiva, perché è una rappresentazione sul campo disumano in un gioco che è un gioco, c'è tre modalità, skirmish, quindi a battaglia, un giocatore A contro un giocatore B, quindi PvP, o se no c'è una modalità campagna, sempre PvP, giocatore A contro giocatore B, però nel mezzo dei missioni una parte dovrà sempre fare la parte nella campagna dell'eroe, quindi Hermione, Harry Potter e tutti quelli che abbiamo visto nella saga, John Weasley e tutti gli altri, ci sono anche quelli minori, tipo ora qui nella scatobase no, però ad esempio c'è anche Neville, Pachock e tutti gli altri, e una parte faranno sempre cattivi. Nella prima modalità che vi ho detto skirmish invece possiamo fare anche semplicemente due scuole di magia, che ne so, Grifondoro contro Serpe Verde, e poi c'è la modalità cooperativa dove siamo eroi, ancora una volta, contro cattivi mostri, magari Voldemort, Mangiamorte, Dissennatori e cose del genere, però i giocatori saranno tutti insieme, quindi una delle tre modalità è una modalità puramente PvE, quindi cooperativa. Ed è un gioco veloce, laddove all'inizio avremo dei punti, e dovremo andare a costruirci il nostro esercito, prendere i nostri eroi, attrezzarli con incantesimi e quant'altro, e ve l'ho detto, questo manuale di 80 regole, che uno lo prende e fa, no vabbè, se ho rovinato quanto c'ho da legge, di 80 pagine ce n'è 12 di regolamento, perché tutto il resto sono immagini, ed è fatto bene, semplice, chiaro, ed è un gioco veloce e divertente, c'è una componente di miniature ragazzi che fa paura. Unboxing, la scatola, tra l'altro fatta in latta, bella dura, abbastanza grande, è comunque quello che contiene, basta e avanza per iniziare a fare uno sbotto d'avventure, ci sono i tile di gioco, ci sono i personaggi, vi faccio vedere, vabbè, Harry Potter, il gioco di miniature della Night Models, ovviamente l'opera della J.K. Rowlings, e vi ricordo che il gioco è edito in Italia dalla Cosmic Games, andate direttamente sul loro sito per avere tutte quante le informazioni, perché oltre al gioco base ci sono anche le espansioni, espansioni che sono ovviamente o tile nuovi, ma per la maggior parte sono personaggi, quindi magari nelle espansioni troverete tutte le espansioni con tutti i professori di Hogwarts, l'espansione invece con l'Ordine della Fenice, l'altra espansione magari dove troverete Voldemort con il suo gruppo di sostenitori, insomma, e poi ci sono anche le espansioni di mostri veri e propri, come ad esempio i ragni, come ad esempio i dissenatori e tutti quanti gli altri. Comunque, nella scatola base che ora apriamo, c'è già tutto l'occorrente per giocare. Apriamo. Manuale di gioco, come vi ho detto, tante, tante, tante pagine, però, cioè, la maggior parte vanno via soltanto per le immagini. Guardate bello, Albus, il lente, qui che lancia fiamme, e ci fa vedere tutti quanti gli esempi. E poi è bello perché io ve l'ho sempre detto, Dio benedica chi fa i manuali e mi ci mette l'esempio accanto, così se la regola non mi torna, perlomeno con l'esempio che vedo nel disegno, sicuramente mi aiuta e mi accompagna, e il regolamento è veramente facilissimo. È un gioco immediato, ragazzi, veramente, mentre lo spacchettate, uno monta le miniature, uno si legge le regole e siete pronti per giocare. Tutti quanti i token dei personaggi presenti nella confezione base, che sono Harry Potter, Elmione Granger, Ron Weasley, i Mangiamorte, che sono questi qua, e poi ci sono i ragni. C'è il ragno gigante e tutti quanti i ragnettini, che ovviamente fanno un po' da mostri che potete incontrare nel bosco, perché no, anche dentro la scuola. Perché il set di base è un'ala della scuola con delle rovine, poi c'è proprio un pezzo di scuola di Hogwarts e il boschetto quello adiacente. E poi tutti quanti i token che ci sono sopra, che per la maggior parte sono token o rologio, che sono questi qua, li vedete, che servono per attivare l'incantesimo, che in questo gioco, quando un incantesimo viene usato, deve passare del tempo prima che si possa riattivare. E poi tutti quanti gli altri token dei punti ferita, degli effetti e tutte le altre cose. Da quest'altra parte i tile di gioco, che poi tanto vi faccio vedere direttamente nel dettaglio, facendovi vedere appunto una partita di base. una spugna antiurto e questa ce la devono mettere per forza, perché le miniature, che come vi ho detto prima, sono da montare, che sono queste qui, lo vedete. Ora, in questo caso qui, il pezzo è unico, ma nel caso degli eroi, li dovete montare alla testa, la bacchetta in mano e quant'altro. Il livello di dettaglio che si raggiunge è indubbiamente altissimo. Poi ve le faremo vedere montate nel corso del video e in futuri video mia moglie ci farà delle speedpainting, soprattutto su Ermione, appunto Harry Potter e gli eroi principali. Guardate il livello di dettaglio che si riesce a raggiungere con la resina. Però c'è un piccolo problema, quello vi casca in terra e si spacca, quindi comunque fateci sempre tanta attenzione. Due mazzi completi che per la maggior parte sono pozioni, perché ovviamente il gioco di Harry Potter è pieno di pozioni, reliquie che possono essere armi, anche la bacchetta ad esempio, è un oggetto che può essere utilizzato per canalizzare il potere e lanciare gli incantesimi. E di qua ci sono carte evento, carte missione, carte incantesimo, insomma due mazzi completi per tutto quello che vi serve. Dadi, ovviamente in gioco c'è soltanto il dado da 6 e la regola del gioco vuole che in questo gioco è un successo quando tirate un dado da 6 e fate 3 o più. Facendo 3 o più è un risultato. Poi ci sono anche i diti riaperti, se ti viene il 6 per ovviamente incanalare più poteri e cose del genere. Ma di solito quando tirate un dado da 6, un 3 o più è sempre un successo. L'1 e il 2 sono fallimenti. E poi vedete qui, ci sono tutte quante le basi dove attaccare sopra le miniature, che tra l'altro sono belline, sono già divise come Tigard Banate e More, sono già divise, hai visto, con le mattonelle. E nella scatola base praticamente è una battaglia fra Ron, Ermione, Harry e i Mangiamorte e i Ragni. Questo è il tavolo da battaglia, il tavolo di gioco. In questo caso qui, come potete vedere, è una missione nel bosco, quindi fuori dalla scuola di Hogwarts o comunque delle rovine, tabellone che è Double Fass. E qui ci abbiamo messo i mobili a seconda del setup di una missione, casuale, perché l'abbiamo fatta noi ora per farvi vedere come funzionano un po' le regole del gioco. Abbiamo messo degli elementi scenici, che sono in questo caso una roccia, che ovviamente bloccherà la linea di visuale. Abbiamo messo delle zucche, un tronco, un albero caduto, una cosa del genere e una tenda. Vedete, con i simboli sopra, con gli arazzi di Grifondoro, anche questa buttata giù. Sono tutti quanti elementi scenici che vanno a bloccare la linea di visuale. Anche stessa cosa per lanciare incantesimi. E qui di lato vediamo le carte, che ora vi vado a descrivere nel dettaglio. Poi, magari durante il setup della missione vi potrebbe essere detto dovete recuperare questo oggetto oppure dovete andare esattamente in questo punto, non lo so, per prendere uno screen o una cosa del genere. Il gioco è uno skirmish di battaglie tra due giocatori. Può essere giocato anche in cooperativa. Comunque, che lo giochiate in cooperativa o in skirmish ha anche la modalità campagna. E la modalità campagna non è soltanto ammazzarsi, picchiarsi e lanciarsi incantesimi quanto anche fare gli obiettivi. Comunque, le carte che vedete qui sopra sul tavolo sono, partendo dal basso, sono carte avventura, carte artefatto, carte pozione e carte incantesimo. Pozioni, è una delle cose più importanti dell'ambientazione di Harry Potter, perché sono carte che possono essere utilizzate sia sul personaggio, sia invece usate per tirarle e lanciarle contro un nemico. Comunque, c'è sempre scritto la cittata e tutto quanto e vi fa capire alla carta se è una pozione da usare per il vostro personaggio, che ne so, risanare ferite, scacciare una maledizione, fermare un incantesimo e cose varie, oppure se è qualcosa di offensivo. E tutte le carte incantesime e pozioni vi diranno sempre se è un danno fisico o è un danno magico. Carte incantesimo, le carte incantesimo hanno una cosa molto particolare perché hanno una carica sopra, che ora poi vi vado a descrivere in dettaglio quando vi faccio vedere le schede dei personaggi, un costo in monete come tutte le cose in galeoni, quindi la pozione è un costo, la carta è un costo in più, un valore in punti potere per lanciare l'incantesimo in basso, che se è bianco, il tondino vuol dire che può essere lanciato solo da punti poteri bianchi, quindi è una magia buona. Se è nero è una magia oscura, se è grigio potete usarlo sia, potete lanciarlo usando punti bianchi o punti neri e poi c'è scritta la difficoltà dell'incantesimo e il nome dell'incantesimo. Artefatti, questi qua, che sono oggetti che, tipo le bacchette, insomma cose del genere, che potete equipaggiare ai vostri personaggi e anche gli artefatti ovviamente hanno un costo, quindi se volete dare una bacchetta a Harry, se volete dare qualcosa di particolare a Hermione, insomma sono tutte qua, più questo, come vi ho detto, è il mazzo avventura da cui dovete andare a pescare top carte a inizio sessione, praticamente sono le avventure che potete fare, di solito hanno una scelta, fai una scelta o fai l'altra, fai una cosa o fai l'altra e ti danno più che altro bonus. Di qua abbiamo le carte campagna che non ve le faccio vedere perché sono appunto per la modalità campagna che non ci interessano in questo video di mostrazione, le carte evento, all'inizio del nuovo turno il primo giocatore dovrà pescare una carta evento e l'evento sarà applicato per tutto il round, quindi fino a che non avrete mosso tutte le vostre pedine e il vostro avversario non avrà mosso tutte le sue pedine, ovviamente ci sarà quell'evento in campo, un classico. E le carte missione, all'inizio ciascuna fazione, quindi nel caso la fazione di Harry Potter, di Hogwarts e la fazione dei Mangiamorte, quindi giocatore A e giocatore B, giocatore A dovrà pescare tre carte, tre di queste, che saranno le sue missioni attuali, nel caso una di queste tre missioni non gli dovesse piacere la può scartare e ne può pescare un'altra, una soltanto. Quindi chiunque, fazione A avrà tre missioni in campo, fazione B avrà tre missioni in campo e sono missioni che se le andate a risolvere beccate dei punti, ovviamente, che ne so, missione abbatte un avversario, missione magari potrebbe essere cercare di fare, di prendere un oggetto, cose varie, comunque una missione che quando l'avrete portata a compimento vi darà un risultato e soprattutto vi darà la possibilità di vincere la partita e di accumulare più punti. Questa è una scheda nel caso quella di Ermione nella scheda vedete che ci sono varie cose segnate tante sembra un po' confusionaria ma la fin fine è facile sopra ci dovete mettere oggetti e reliquie che ne so, pozioni, reliquie cose varie vanno sopra e sotto gli incantesimi dovete vedere gli slot perché ad esempio Ron ha un solo slot per gli incantesimi il libro della magia invece Ermione ne ha due vedete sono segnati sotto le sue abilità speciali che dovete vedere sul manuale la sua maestria nel lanciare incantesimi ha due bacchette quindi ha due successi automatici perché lei è particolarmente forte nella magia stesso Harry due dadi in difesa quindi lei automaticamente assorbe due danni e in più vedete ha un'astuzia di due l'astuzia dovete sommare tutta l'astuzia di tutti i vostri personaggi per formare il pool comune di magia di incantesimi ovviamente loro venendo da Hogwarts Ron Ermione ed Harry hanno magia bianca quindi dovete mettere tutti insieme due per Harry due per Ermione e uno per Ron loro in tutto hanno cinque punti in un pool comune che dovranno essere utilizzati da loro per lanciare incantesimi carte incantesimo del libro della magia più una carta stampata direttamente qua che come vedete può essere una carta o di magia o di incantesimo di reazione comunque c'è sempre scritto sotto nel caso sia un incantesimo di reazione c'è scritto reazione questo è un incantesimo che il personaggio ha di partenza una conoscenza che ha quindi non c'è bisogno che glielo compriate già c'è là sopra e su ogni incantesimo voi ci dovete mettere questo cursore qui dal lato blu quindi nel caso dovete mettere quel cursore blu anche sugli altri incantesimi che ci hanno sotto io ora vi prendo sempre Ermione quindi ce ne mettiamo altri due qui che praticamente è il timer per riattivare gli incantesimi ora sull'incantesimo vedete in alto il nome la difficoltà quindi è il valore che dovete eguagliare o ovviamente uguale o più eguagliare o superare per lanciare l'incantesimo se no l'incantesimo non parte o se ritorge contro e in più vedete ogni incantesimo ha una carica prendiamo ad esempio questo a carica 1 e carica 2 cosa vuol dire che quando il cursore è blu e la freccia punta verso l'arto l'incantesimo è pronto quando l'avrete lanciato dovrete subito dopo averlo lanciato mettere il cursore da questa parte finite il turno fate tutto avete lanciato l'incantesimo turno successivo appena inizia il turno lo dovete girare di qua perché c'è scritto carica 1 finisce il turno dovete girarlo di qua passa ancora un turno quindi questo è forte come incantesimo infatti ha difficoltà 4 ci vogliono 3 turni per riattivarlo quando poi ritorna su lo rigirate dalla parte blu e vi ricordate che questo incantesimo è di nuovo disponibile quindi può essere tirato un'altra volta lanciato poi costo perché all'inizio della partita quando vi dovete fare la squadra dovete spendere punti galeone i punti galeone sono scelti dalla mappa magari a volte 10 30 100 200 e voi con i punti che avete un po' come warhammer vi dovete fare tra molte virgolette l'esercito la warband quindi ermione costa 8 perché è particolarmente forte e poi gli incantesimi hanno un costo una volta che avete preparato tutti quanti i personaggi vi dovete ricordare sempre che qua giù hanno delle caratteristiche tipo magia temperamento queste cose qua su servono quando ve lo richiede una prova una carta in particolare che ne so se per aprire uno scrigno che trovate sulla mappa tipo potrebbe essere questo qui la prova vi dice per aprirlo c'è da fare una prova magica e quindi dovrete superare un test di magia di difficoltà a 12 vedete che lei ha magia 6 e non basta quindi dovrete avvicinare entro un range di 3 caselle tutti quanti i vostri personaggi sommare i loro livelli di magia per arrivare a 12 o più quindi la difficoltà della prova per superarla nelle prove non c'è da fare un tiro di dado non vi verrà mai chiesto quindi dovete arrivare solo con la vostra caratteristica nuda e cruda e poi sotto le abilità speciali di ogni personaggio e tutto quanto ricordatevi che in un turno potete fare solo due azioni una semplice e una complessa le azioni base sono movimento e usare una pozione le carte pozione che vi ho fatto vedere prima se l'avete comprate e se l'avete comprate e l'avete equipaggiate quindi nel caso sopra nella parte sopra della scheda di lei e azioni avanzate che sono attaccare o lanciare un incantesimo perché sì in questo gioco nel 99% dei casi si lanciano incantesimi ma niente vi vieta di attaccare anche in corpo a corpo a fare un danno fisico quindi ricordatevi pool in comune ovviamente la somma dell'astuzia dei personaggi incantesimi ricariche sopra ciascuno incantesimo a vari costi e abilità e ora vi faccio vedere un po' come ci si muove sulla mappa vi faccio vedere due schede dei mostri che sono comprensivi nella scatola da base del gioco che sono i mangiamorte che sono questi e poi ci sono sia gli sciami di acromantula che l'acromantula il boss vero e proprio e per farvi vedere la scheda di un mangiamorte vedete che perché come vedete è un gioco a fazioni quindi un giocatore farà gli eroi e un giocatore invece farà i nemici chi fa il nemico uguale sempre si deve fare l'esercito e ha una carta mi viene da di esercito warband e anche le carte dei mangiamorte sono uguali vedete hanno un costo hanno una maestria sono come personaggi pari pari come personaggi e poi perché non sono mostri è un altro giocatore che li va a muovere e cercherà di vincere l'avventura libro di magia e tutto quanto quindi come vi ho detto nella scheda di Ermione Granger quindi vedete c'è anche l'astuzia per un pool però questa volta l'astuzia è nera quindi il pool suo di punti magia sono neri e lui non potrà utilizzare incantesimi bianchi quindi se lui dovesse a parte che non glielo avrete comprato proprio di partenza però incantesimi come quello di Harry Potter ad esempio questo lui non lo potrebbe avere perché vedete richiede tre punti magia dal pool bianchi e loro ovviamente sono cattivi e ne hanno solamente di neri però può usare quelli grigi perché quelli grigi sono neutrali quindi possono essere spesi sia punti bianchi punti magia bianchi che punti neri mettiamo caso venga dato ovviamente un incantesimo anche a lui poi può portare due oggetti ha un costo ha delle abilità speciali e ha un incantesimo anche lui innato quindi anche a lui stessa cosa va dato un contatore qui sopra per tenere traccia del tempo gli acromantula invece che non utilizzano la magia ma sono creature ferali da corpo a corpo vedete anche loro hanno un costo hanno delle abilità hanno delle maestrie insomma quello che devono avere ma soprattutto l'unico attacco che hanno è questo nella fattispecie l'acromantula quello più grande questo qui da solo questo qui da solo unico ha tipo di attacco fisico bonus 2 ora vi faccio vedere a cosa serve ma comunque quando c'è scritto bonus vuol dire che automaticamente nell'attacco o nella difesa vanno due successi automatici fa un danno ed ha un range di 1 quindi può attaccare soltanto qualcuno adiacente e le regole del gioco sono molto semplici perché ciascun personaggio nel suo turno metto qui Ron Ermione tra le trope linee bellissime ed Harry e di qua metto per farvi vedere l'acromantula e il mangiamorte ciascun personaggio all'inizio ciascuna squadra scusate fazione ha l'iniziativa l'iniziativa è un conteggio che va fatto sul temperamento quindi si fa un conto complessivo del temperamento della squadra e la squadra che ha un temperamento più alto è quella che muove per primo tanto comunque si muove sempre alternativamente che ne so per primo muove quello della squadra degli eroi il secondo personaggio lo muove quello della squadra dei mostri terzo personaggio rimuovano gli eroi e si va ad alternarsi perché sennò sarebbe troppo facile le azioni che si possano fare come vi ho detto all'inizio sono un'azione semplice e un'azione complessa l'azione semplice è quella di muoversi e giocare una pozione quando ci si muove ci si muove sempre di tre e ci si può muovere sia ortogonalmente che in diagonale quindi muovendosi ci si muove sempre di tre caselle quello è il movimento che fanno tutti i personaggi si può ovviamente anche bere una pozione o sennò come azione si può andare a fare o un attacco in corpo a corpo o magari una pozione ti dà range uno due tre di distanza tanto il range di qualsiasi cosa facciateci è sempre scritto sulla carta della pozione dell'oggetto o della magia o sennò si può lanciare un incantesimo nella fattispecie vi faccio della cosa più importante perché ovviamente Harry Potter ruota tutto intorno a quello prendo questo incantesimo qui che si chiama Epismendo e vedete è un incantesimo che ha difficoltà 4 quindi non è nemmeno dei più semplici e ha ricarica 3 quindi è un incantesimo particolarmente potente perché richiede 3 dal pool in comune ah il pool magia in comune se fate usare un incantesimo troppo potente a Harry e dopo tocca ad Hermione Hermione non ha punti magia per lanciare il suo incantesimo altrettanto potente non le potete lanciare dovrete andare in corpo a corpo a fare azioni del genere comunque ci sono le cariche quindi questa è una carica alta ed ha un range di 4 il range si conta sempre in diagonale o ortogonale quindi magari per vedere se siamo a distanza di questo incantesimo dal mangiamorte da Harry facciamo 1 2 3 4 siamo in range se ovviamente ragazzi banale dirvi davanti ci fosse stato un tronco caduto non c'era visuale e quindi toccava spostarsi fino ad averla questi elementi scenici servono unicamente a bloccare la visuale ma perché no a volte anche in qualche missione hanno anche delle regole particolari io ora level counter da qui e lo metto qui per far vedere comunque l'incantesimo ha difficoltà 4 vediamo che quando si lanciano gli incantesimi bisogna vedere il livello di maestria stessa cosa anche per il corpo a corpo insomma quando si attacca il livello di maestria di Harry sono le bacchette che ha disegnato sopra quindi Harry ha un livello di maestria nel combattimento di 2 ad esempio Ron ha un livello di maestria nel combattimento di una bacchetta soltanto è un pochino più debole comunque 2 bacchette che ti danno 2 successi automatici più ha 2 scudi vediamo invece che il mangiamorte ha 2 bacchette perché anche lui è potente nella magia quindi ha 2 bacchette di maestria che sono disegnate qui accanto però ha soltanto un dado di difesa quando si va a lanciare un incantesimo prima di tutto girate come vi ho detto questo dal lato rosso turno dopo si muove qui turno dopo si muove di qua poi di qua e torna disponibile comunque in questo turno utilizzato si sprecano i 3 punti dal pool di magia che sono questi 3 punti qui quindi questi lo giro dal lato bianco vanno scartati e si contano le caselle si va a fare l'attacco ora per andare a fare l'attacco ci sono i dadi da 6 che sono diversificati potete usare i bianchi per l'eroi e i blu per i nemici insomma guardate voi all'inizio della partita io faccio un po' come a dungeon saga quelli blu li uso per gli eroi e quelli bianchi li uso per i mostri ora per lanciare questo incantesimo a difficoltà 4 però voi vi ricordate che Harry ha maestria 2 quindi due successi sono già entrati sono automatici due successi sono automatici guarisce fino a due livelli danno questo è un incantesimo di guarigione quindi questo va lanciato su un bersaglio per essere curato quindi lo lanciamo su qualcuno e viene curato ma ora vi ho messo una carta a caso prendetelo come se fosse un incantesimo che fa danno perché tanto il funzionamento è lo stesso ora per lanciare l'incantesimo dobbiamo essere la citata che è scritta sulla carta poi si vanno a tirare 3 dadi ciascun personaggio nel gioco usa sempre 3 dadi ci sono incantesimi pozioni o altre situazioni che ti fanno tirare un dado in più comunque la regola vuole che più di 4 dadi non si possono mai tirare quindi Harry va a tirare i 3 dadi ha già due successi automatici ma ne deve fare altri due per almeno eguagliare la difficoltà dell'incantesimo per lanciarlo quindi tutti i risultati che sono 3 o più in questo gioco sono un successo l'1 e il 2 è sempre un fallimento quindi si vanno a tirare i dadi si guarda quello che esce e se esce un 6 sul dado addirittura può essere ritirato quindi per incrementare i successi che ci sono stati ma in questo caso vabbè comunque non ci serve perché tanto abbiamo superato la prova ricordiamoci che lo stesso possono fare in difesa anche i nemici quindi tanto vale andarle a conteggiare e allora noi abbiamo fatto due successi automatici 3 4 5 il 6 lo ritiro e non è un successo questa volta quindi abbiamo fatto 5 successi per lanciare l'incantesimo il nemico si va a difendere e sulla scheda come vedete ha uno scudo quindi automaticamente uno già l'ha tolto dall'attacco di Harry e quindi Harry ha fatto 4 successi andiamo a tirare i dadi ha avuto fortuna da morire perché ha fatto questo non vale però ha fatto due successi quindi scala ancora di altri due e quindi a Harry ne rimangono due dei risultati perché uno dello scudo ha due di questi e questi li ritiriamo che diventano un 1 in 1 quindi niente di fatto con un risultato di 3 difese contro 5 punti rimane un valore di 2 che comunque basta avanza per far passare l'incantesimo e l'incantesimo poi dovete andare a leggere la descrizione cosa c'è scritto di solito di solito quando un incantesimo passa fa un danno mai di più oppure potrebbe anche estordirlo potrebbe perché no avvelenarlo infatti vedete ci sono tutti quanti i token da mettere accanto tipo avvelenato infiammato e ci hanno regole particolari però di solito ti fa un danno stessa cosa quando attaccheranno loro in corpo a corpo per anni andate a vedere la caratteristica della maestria del mostro e tutto quanto ma loro ricordate che non hanno bonus e andiamo a tirare i dadi avete visto la difesa come funziona in più se un personaggio ha un incantesimo di reazione magari se sulla carta ci avete scritto reazione quello lo dovete utilizzare soltanto quando invece siete il bersaglio di un incantesimo si passa alla parte finale che sono i punti ferita che sono divisi in questi tagli giallo arancione blu e viola quando un personaggio subisce dei faccio un pieno di spazio qui dei punti ferita voi accanto alla sua scheda ciascun personaggio a livello di ferita di 4 gli mettete uno di questi cursori se ha subito una ferita in basso gli mettete o in basso in alto fate voi gli mettete il giallo a ricordare che ha subito una ferita quando subirà la seconda ferita gli mettete l'arancione quando subirà la terza gli mettete il blu quando subirà la quarta gli mettete il viola quando subirà una quinta ferita il personaggio è rimosso dalla partita è morto e quindi è fuori dalla battaglia nel caso subisca un incantesimo di cura come nel caso di quello di Henry che dice cura due punti ferita levate quelli più alti quindi il quarto e il terzo e rimangono i primi due ovviamente sono delle regole che vanno a meno mare quando un personaggio è a livello arancione di ferite ha una menomazione quando un personaggio ha subito tutte quante le ferite e sta per morire praticamente ha un altro tipo di menomazione ricordatevi che quando un tiro di dado un risultato fa 6 lo potete ritirare ogni tanto alcuni incantesimi o alcune situazioni vi vengono incontro mettendovi o un dado fortuna o un dado sfortuna che ci potete mettere tranquillamente nel mezzo un dado bianco per farvelo capire comunque del colore opposto rispetto a quello che tirate il dado fortuna quando fa 3 o più perché un risultato in questo gioco è sempre un 3 o più ti fa praticamente selezionare il valore più alto di tutti i dadi che hai tirato del tuo colore se invece è un dado sfortuna che fa 3 o più mettiamo caso uno abbia tirato questi dadi qua giù ti fa scegliere i valori più bassi cioè il valore più basso in questo caso c'è un dato comunque di fortuna perché il valore più basso è 4 e quindi alla fin fine un colpo è comunque andato a segno e quello serve per farti capire insomma che hai avuto un attimo di sfortuna o comunque sei preda di maledizioni importantissime sono le abilità dei personaggi che vedete i tratti quindi quelle ve le leggete sul manuale vedete cosa vanno a fare e la cosa più importante del gioco ragazzi ricordatevi che il pool incantesimo è in comune quindi Hermione ha un incantesimo di livello 3 cioè che costa 3 e dopo non lo può utilizzare gli toccherà utilizzare quello che costa 2 perché sono rimasti soltanto 2 punti magia bianchi nella sua riserva linea di visuale che si può tracciare anche in diagonale come volete basta che non ci siano elementi scenici range di ogni incantesimo e quando lanciate un incantesimo il cursore l'orologio da blu diventa rosso e poi lo dovete girare semplicemente verso le cariche la prima carica è in su turno dopo di qua turno dopo di qua e quello dopo ancora si gira di qua e torna blu e l'incantesimo rie disponibile ragazzi completano ovviamente il gioco come vi ho detto le carte missione completano il gioco con gli obiettivi le carte missione se riuscite a completarle che sono queste qui vi danno punti vi danno cose del genere poi ci sono le carte scelta che è questo mazzo qua giù che vi ho fatto vedere prima che sono carte avventura che vi danno dei bonus potete fare o quella scritta sopra o quella scritta sotto divisa da una linea e le regole bene o male sono tutte qui per la maggior parte è un gioco fatto pensato per combattere due squadre sul campo di battaglia però può anche vincere difficile ma può anche vincere la squadra che fa gli obiettivi e guadagna più punti non vi dovete semplicemente ammazzare comunque un gioco per la maggior parte veramente tattico e di squadra se consumate tutti i punti del vostro pool incantesimo i vostri personaggi non castano più in conclusione al solito ci sarebbe anche qualcosa in più da dire non vi ho fatto vedere per niente le abilità non ve lo ho descritto però sono talmente tante che insomma uno poi era inutile farvele vedere tutte basta perché se poi quel personaggio non lo metti in campo è anche inutile che te lo vada a descrivere comunque il gioco è veloce è immediato le regole sono semplicissime secondo me non ha niente in più di dungeon saga vi dico la verità ha preso un po' di idee a destra e manca perché alla fin fine il mio risultato toglie un tuo risultato quindi il tiro di dadi sembra veramente dungeon saga il livello di carica sull'incantesimo mi ricorda molto Sword and Sorcery però le meccaniche sono fresche sono veloci non insegna niente di nuovo non aggiunge niente di nuovo però le meccaniche sono veloci ora se devo fare leggermente una tiratina ad orecchie è che il costo della scatola che la scatola questa qui di base si aggira intorno ai 100 euro nel contenuto della scatola di base che pagate 100 euro beh ci sono tutte le carte tra l'altro disegnate da paura anche il tabellone bellino da morire molto caratteristico poi tutti i disegni di Harry Potter spettacolo anche le carte magia proprio col disegno classico dello stile libro della magia però ci sono tre personaggi che sono Ron Hermione e Harry poi ci sono quattro mangiamorte e cinque sciami di acromantula e una cromantula ora punto positivo e negativo punto negativo per 100 euro sono poche queste miniature cioè non è per cattiveria però ad esempio l'Akmon e altri giochi dove ho anche la Fantasy Flight magari in una scatola che si in un gioco che si basa tutto sulle miniature ora non guardiamo il costo ma su un gioco che la sua componente la fanno tutte le miniature non ti dico di mettercene 80 e ora poi vi dico perché ma almeno una trentina di miniature metticele dentro però c'è un però le miniature sono meno uno perché va bene comunque ti invogliano a comprare le espansioni e cose del genere che sono tante però qui sono in resina quindi il livello di dettaglio sono un po' piccole è difficile colorarle cioè ci dovete avere particolarmente occhi non potete mai però il livello di dettaglio che vedete su queste miniature ragazzi con la plastica nemmeno un mastro scultore cioè io vi farei vedere poi ve lo anzi ve lo farò vedere come è pitturato Harry Potter come verrà fuori perché sono veramente bellissime ragazzi l'avete visto in Alien Contra Predator la resina è il miglior modo per fare le miniature perché ti permette di andare a fondo nei dettagli davvero gli puoi fare anche le ciglia alla miniatura vengono perfette quindi da una parte sono pochi perché ripeto per 100 euro di spesa mi aspettavo almeno 40 miniature butami ce le 35 queste sono un po' poche però ci hanno un dettaglio ragazzi disumano e tutta quanta la componentistica di carte e tutto che c'è dentro la scatola è veramente bella e interessante poi in una scatola del genere tra l'altro in bottiglietà non ci sarebbero potete entrare sono fragili da morire quindi fate attenzione e più che altro forse la cosa che un pochino mi ha fatto storgere il naso è mi piace tutto questo gioco vi devo dire la verità non voglio usare mezzi temi né niente mi piace tutto i disegni le miniature vabbè fanno i brividi da quanto sono belle però forse è troppo basato sui combattimenti perché anche nella modalità campagna e tutte le altre cose che ci sono avrei preferito un gioco c'è anche la modalità coppia collaborativa quindi alla fin fine mangiamorte gli acromantula sono mossi dall'intelligenza artificiale però Harry Potter è bello perché è una storia cioè buttarmici solamente nei combattimenti schirmish è un po' limitato perché sì è vero che potete risolvere l'obiettivo facendo l'obiettivo ma è più facile sconfiggere gli avversari quindi è un Royal Ramble di Harry Potter dove sembra quasi una battle royale ci si picchia e vinca il migliore questo forse un po' l'ha penalizzato io l'avrei fatto molto più narrativo ma centomila volte avrei creato sicuramente l'avrei fatto più in stile dungeon crawler con un libro dell'avventura gli devo dare un voto gli do assolutamente un 7 su 10 meritatissimo è divertente come gioco però ha quelle cose che un po' ti fanno storgere il naso e che secondo me potevano essere fatte migliori comunque per tutti i fan di Harry Potter per me è un gioco che non deve mancare assolutamente e anzi spero in futuro di riuscire a farvi vedere anche qualche espansione magari i professori di Hogwarts o magari mi piacerebbe farvi vedere anche la miniatura di Albus Silente o l'Ordine della Fenice insomma perché c'è veramente ce ne sono di cotte e di crude c'è di tutto e poi la cosa più bella visto che non ve l'ho fatto vedere ma nel gioco non poteva mancare nel gioco c'è l'incantesimo che lo può lanciare Harry Potter Expecto Patronum che ovviamente lancia Harry Potter e questo incantesimo scaccia i dissenatori e ci sono anche le miniature non nella scatola base dei dissenatori che sono la cosa più bella che io abbia mai visto in cerco sembra veramente degli spettri fanno paura sono bellissimi e spero di farvi vedere anche le recensioni quindi un 7 su 10 meritatissimo io ringrazio anche una volta la Cosmic Games per averci offerto una copia per la recensione grazie ragazzi è un onore collaborare e continuare a collaborare con voi e trovate il link in descrizione per acquistarlo e poi comunque vi lascio il sito della Cosmic Games che trovate tutte le informazioni sui loro giochi da tavolo giochi di ruolo insomma e tutto quello che hanno quindi grazie ancora una volta e fatemi sapere cosa ne pensate con un commento ciao ragazzi alla prossima grazie a tutti